Ben trovati amici di ilvegano.it, buonasera a chi ci sta seguendo, siamo giunti al settimo appuntamento di Una Tantum, la nostra rubrica settimanale dedicata al mondo etico, ai rifugi e al veganismo sotto tutti i punti di vista. La scorsa settimana abbiamo incontrato Luca Speranza per parlare del progetto Ubuntu, un modo di vita ispirato alla vita cooperativa che si vive nei villaggi, una proposta di lavoro sociale, di ricerca in gruppo, aiutandosi reciprocamente, cercando ciò che unisce e piuttosto quello che divide. Abbiamo conosciuto anche Roberto ed Elisabetta, due attivisti di Como dalla parte dei Cinghiali, che si stanno rivolgendo alla stampa e alle associazioni animaliste ed anche ai rifugi per chiedere al prefetto lo stop degli abbattimenti dei cinghiali. Un tema molto profondo e speriamo presto di avere buone notizie. Questa sera abbiamo con noi l'affezionato Nino Malgeri da Fornia che ci riporterà le news del mondo animalista. Ciao Nino. Buonasera. Buonasera a tutti. E poi salutiamo anche Francesco Castaldo, il nostro amico dalla provincia di Novara, responsabile del rifugio Miletta. Ciao a tutti. Con il nostro ospite vi accennavamo Francesco Castaldo, che abbiamo appunto in diretta. Vi racconteremo invece del rifugio Miletta, un oasi di pace e libertà per tutti gli animali. Il rifugio si trova ad Agrate, Conturbia, in provincia di Novara. Ed è nato nel 2013 dall'idea e dal sogno divenuto realtà di Alessandra Mossa. Oggi al rifugio vivono oltre 200 animali. Diamo la parola, prima di raccontarvi storie di rifugio Miletta, a Nino che ci racconterà appunto le news della settimana. Ecco, buonasera a tutti. Le notizie della settimana, vorrei iniziare con una notizia triste a proposito dei rifugi. Ci ha lasciati Gorgo. Gorgo era un maiale fantastico che viveva a Ippoasi. Era uno dei primi abitanti di Ippoasi. Aveva oltre 10 anni e ci ha lasciato qualche giorno fa. Mi rattrista molto questa notizia perché avevo conosciuto Gorgo quando era ancora un cucciolotto, tanti anni fa. Mi rattrista veramente tanto. È una veramente triste notizia. Proseguiamo con le notizie. A proposito, voi tutte le notizie che vi racconto le troverete poi sui commenti di questa diretta. E sempre a proposito di rifugi, vi voglio segnalare anche due notizie della fattoria Caprecauri. Una che invita le persone che vogliono andare a visitare il rifugio Caprecauri ma con un bellissimo post di Max che vi spiega in dettaglio che cosa potete fare per andare a trovare il suo rifugio. E oltre a questa notizia delle visite al rifugio Capreliberatutti sta facendo un altro rifugio ancora, oltre Caprecauri. Invece Capreliberatutti si sta espandendo e sta proponendo a tutti l'acquisizione delle zolle. Poi andate sul loro sito, sul post che vi metterò sui commenti e leggete i dettagli. Si stanno allargando al santuario Capra Libera tutti. Poi appresso c'è questa notizia che secondo me è veramente disgustosa delle tigri, su basta delfinari, le tigri che vengono massacrate in Malesia, in Thailandia, in Sumatra. E queste tigri in pratica vengono utilizzate per medicinali, vengono sfruttate in maniera indecorosa. C'è anche un altro scritto, un altro articolo di Guendalina Curzi che parla di quello che sta succedendo in questo ultimo anno di questa pandemia e quello che avrebbero dovuto dare come rimedi che sarebbe stato il fatto di smettere di mangiare animali e hanno completamente stravolto questa pandemia che ci raccontano e veramente allucinante. Trovate anche questo post sui commenti. Poi ce n'è un'altra notizia interessante ed è lo sfruttamento delle api. Lo sfruttamento delle api, che tutti pensano il miele, che saranno mai le api, leggetevi questo articolo, è molto interessante e soprattutto si capisce bene che cos'è lo sfruttamento delle api. A presto abbiamo, ce ne sono diverse perché poi la settimana scorsa, non avendo avuto la possibilità di connettermi, vi lascio anche delle altre notizie che non ho potuto dare nella diretta precedente, perciò abbiate pazienza. C'è anche, e questo vorrei esprimere, questo giudizio, su questa storia della normalità che ci stanno facendo piano piano, ci stanno assuefando piano piano all'addestramento, alla sottomissione, cioè all'assuefazione, alla repressione delle libertà fondamentali e coercizioni senza senso e utilità alla punizione dell'esercizio dei diritti e all'evoluzione sistematica della privacy. Quello che sta succedendo dall'inizio di marzo dell'anno scorso, metodicamente e sistematicamente ci stanno levando tutte le libertà. Trovate anche questo, è un articolo molto interessante su quello che ci stanno massacrando la vita in questo ultimo anno, con la scusa della pandemia. Poi vi voglio anche, vorrei anche parlare dell'8 marzo, domani è l'8 marzo, l'organizzazione Non Una di Meno a Roma ha organizzato diverse iniziative da un refresh mode che parlano della festa delle donne dell'8 marzo a Non Una di Meno ha organizzato lo sciopero globale femminista e transfeminista. Ci sono tutte le indicazioni sul post che allegherò e chi si trova a Roma potrebbe partecipare, è un flash mob al Ministero dell'Economia e delle Finanze e poi il pomeriggio un laboratorio a Piazza dell'Escurino. Chi si trova a Roma potrebbe partecipare a questa manifestazione. E per ultimo, e poi lascio la parola a Rifugio Miletta, però per ultimo vi voglio anche dire questo, ci stanno massacrando la vita con tanti sistemi, con i lockdown, con le mascherine, con tutto quello che ci stanno raccontando. E in più c'è questa storia dei vaccini. Noi, come pegani, siamo contrari all'uso dei vaccini, comunque e a prescindere. E questo articolo che vi consiglio di leggere è la campagna di vaccinazioni che è in pieno svolgimento. Guardatelo, leggetele questo articolo perché è veramente interessante. Tutte queste notizie di cui vi ho parlato adesso le condividerò sulla pagina di questa diretta. Ok, Nino c'è una domanda per te. Arianna ci dice le persone ci dicono sempre che vanno dal piccolo produttore di miele, quindi smontano a priori la produzione della grande catena alimentare. Proviamo informazioni sullo sfruttamento delle api del piccolo produttore? Cosa ci rispondi? No, no, io rispondo semplicemente questo. Piccolo o grande produttore, come piccolo o grande allevatore, è sempre sfruttamento degli animali, a prescindere, come diceva Totò, a prescindere del sfruttamento. Le api devono essere libere, nessuno le deve sfruttare. Punto. Sia piccolo o grande. Non ce ne frega niente che sia piccolo o grande. Non ce deve essere lo sfruttamento degli animali. E' questo che deve essere il nostro quotidiano perseverare e liberare gli animali, anche le api. Anche le api. Ok? Spero di essere stato chiaro. Sì, attendiamo i link nei commenti. Sì, sì. Allora, andiamo avanti con la nostra diretta. Vi abbiamo accennato quando è nato il rifugio letta e volevamo appunto fare tantissime domande a Francesco. Francesco, raccontaci di come questo sogno è diventato realtà durante tutti questi anni. Sicuramente tra tantissime gioie, ma anche impegni e fatiche. Il sogno era inizialmente il sogno della fondatrice che si chiama Alessandra Motta che da sempre nella sua vita si occupava di animali in vario modo e faceva quello che fanno tante volontarie anche al giorno d'oggi con molto impegno. il sogno andava nei canili tirava fuori dei cani che probabilmente era complicato adottare o che avevano dei problemi e dava loro una casa temporanea trovando invece poi un'adozione per la vita. A un certo punto si è resa conto che i cani non erano gli unici animali che avrebbero dovuto essere portatori di diritti e che anzi tutti gli altri animali erano quelli che non avevano voce. mentre per i cani c'è una forte comunità di persone che si occupano di loro e che li difendono era molto più complicato trovare questo tipo di difesa rispetto a maiali, buche, cavalli, coni eccetera e quindi con questa idea ha fondato il Rifugio Miletta donando il suo terreno la sua casa e gran parte della sua vita a questa causa come è diventato realtà con la fatica con il sudore con il mancato sonno di tutti i volontari che in questi otto anni hanno contribuito a mantenere salvare curare tutti questi questi animali con i donatori che hanno permesso di mantenerli pagare i farmaci necessari a mantenerli in salute nel caso in cui si ammalino oppure quando sono usciti dai luoghi in cui erano imprigionati erano già malati e quindi dovevano essere curati e grazie anche ai veterinari che ci seguono e che con la loro passione e la loro e le loro competenze aiutano a curare tutti questi animali ecco forse c'è anche da dire che a volte tutto questo non basta ma servono appunto anche competenze perché spesso si legge di gruppi animalisti che magari fanno uscire da un allevamento un determinato animale ma se poi mancano le competenze su quali sono non solo le esigenze etologiche dell'animale ma semplicemente anche qual è il cibo più adatto oppure quali sono i farmaci e le cure che vanno somministrati quell'animale non necessariamente passa una vita migliore fuori da dover seppur libero poi magari parliamo in dettaglio di libertà servono anche delle competenze c'è stata la fortuna che tutte queste questi fatti si unissero e così è nato ed è proseguito il rifugio Miletta gli animali ospitati al rifugio Miletta sono stati recuperati da situazioni di grave sofferenza dopo la riabilitazione tipo fisica avviene il passo successivo quello dell'inserimento cosa fate per farli sentire al futuro e finalmente a casa noi facciamo molto poco in realtà fanno tutto da soli e fanno tanto gli altri animali perché questi animali una volta che arrivano al rifugio Miletta non sono solo liberi dalle persone che li sfruttavano a volte anche dalle catene che li imprigionavano ma sono anche liberi di scegliere come impiegare il proprio tempo e con chi passarlo quindi quando arriva un nuovo animale c'è un primo periodo che purtroppo è di isolamento per cui viene valutato lo stato di salute perché pensate se arriva un animale malato con una forma virale che poi trasmette a tutti gli altri 200 animali del rifugio è un gravissimo problema e un grosso rischio quindi c'è un primo passo di isolamento quarantena chiamiamola per verificare le sue condizioni di salute e poi quando è in salute viene unito a tutti gli altri animali e sono gli altri animali che da un certo punto di vista si prendono cura del nuovo arrivato e tra virgolette gli spiegano come è la vita al rifugio miletta e gli fanno vedere per esempio dove si mangia dove ci si può rilassare dove ci si può isolare dove si può passare il proprio tempo ci sono alcuni animali che legano con gli altri altri che invece sono più solitari alcuni che legano solo con alcuni alcuni che non si avvicineranno mai alle persone perché non sempre noi sappiamo cosa è capitato a quell'animale che situazioni ha vissuto prima che arrivasse al rifugio e quindi ci sono i casi più disparati ma tendenzialmente sono gli animali stessi che si relazionano tra di loro e che fanno capire ai nuovi arrivati che quella è una casa sicura l'informazione oggi possiamo considerarla forte l'arma più forte che abbiamo in mano anche se non tutti ne sono al corrente reputiamo che divulgare cosa ci sia dietro lo struttamento degli animali sia fondamentale oggi gli allevamenti sono prigione dove gli animali diventano schiavi uccisi per trarre profitto dai loro qual è il miglior modo secondo te che sei appunto responsabile di uno dei rifugi più conosciuti d'Italia per far capire all'umanità che l'unica soluzione per porre fine a questo sterminio è un sistema basato sul diritto alla vita e alla libertà di ogni individuo animale umano e non quindi sulla scelta vegan allora una piccolissima precisazione non sono il responsabile del rifugio miletta ma il rifugio miletta è un'associazione che quindi ha diversi responsabili c'è un consiglio direttivo che sceglie quello che secondo le persone che appunto il consiglio direttivo è la cosa migliore da fare per gli animali che vivono qui dopodiché il rifugio miletta cerca anche di comunicare non solo attraverso le visite al rifugio ma anche attraverso altri canali di comunicazione che in questo momento sono i nostri social sempre per cercare di sensibilizzare le persone sulla causa animale per quanto riguarda la scelta vegan ovviamente l'associazione vegana antispecista anche se per scelta ai volontari che desiderano collaborare a prendersi cura degli animali che sono qua non viene mai chiesto se sono vegani o meno perché prima di tutto le porte del rifugio miletta devono essere aperte a tutti ma anche perché una volta che uno si prende cura di un maiale che conosce un maiale da vicino che vede riconosce in un maiale non tanto una specie ma un individuo perché ogni maiale che vive al rifugio miletta ha una propria personalità un proprio carattere delle proprie aspirazioni che sono diversi dagli altri così come le mucche così come i vitelli così come i poni le capre le pecore eccetera il passaggio a capire che forse nel caso non si sia vegani è il proprio comportamento potrebbe essere modificato per non solo per coerenza ma anche perché con il proprio comportamento e con i propri acquisti si può determinare o meno lo sfruttamento di altri animali non quelli che ci sono qua è probabilmente un passaggio non probabilmente è un passaggio che tanti volontari che sono arrivati qua esclusivamente attirati dalla volontà di prendersi cura degli animali poi hanno fatto la stessa cosa avviene per le visite durante le visite però c'è molto meno tempo per parlare alle persone rispetto a un volontario che inizia e fa un percorso per cui viene qua con continuazione le visite al rifugio durano generalmente un paio d'ore e volutamente nelle visite che teniamo io un'altra volontaria che si chiama Federica durante le visite non parliamo mai esplicitamente di veganismo questa è una scelta ed è dettata dal fatto che ultimamente in televisione purtroppo la parola veganismo il significato della parola veganismo è stato molto bistrattato ci sono alcuni programmi televisivi che hanno la necessità di fare audience rassicurando il proprio pubblico mostrando degli stereotipi sbagliati errati lontani da quello che in realtà è il veganismo raccontandolo come se fosse una dieta alimentare questo però oltre al fatto che è lontano dalla realtà e che è molto complicato poter raggiungere anche solo quei numeri quel pubblico se si scegliesse di andare in quel tipo di programma televisivo si vede come fanno chiamano delle persone e poi non gli permettono in realtà di esprimere un'opinione un'idea completa ma vengono continuamente interrotti perché lo scopo è diverso non è possibile farlo in quel modo secondo noi la parola veganismo all'esterno della cerchia dei vegani delle persone che sono già sensibili alla causa animale può chiudere delle porte dei canali di comunicazione quindi durante le visite in realtà noi non parliamo di veganismo ma parliamo delle storie degli animali che sono stati salvati le raccontiamo con dovizia di particolari sono tutte storie vere sono romanzate e non sono inventate i testimoni sono lì davanti per esempio durante le visite spieghiamo sempre che gli animali non hanno il dono della parola come ce li hanno come ce l'ha l'essere umano ma hanno altri doni e uno di questi è comunque saper comunicare se una persona guarda un animale da lontano per la prima volta probabilmente non capisce come comunica quell'animale se invece ha la possibilità di avvicinarsi guardarlo negli occhi cambia tutto quindi lasciamo raccontiamo la storia degli animali e lasciamo che le persone possano interagire con quegli animali che scelgono di interagire con le persone gli animali vivono tutti la maggior parte degli animali vive in un recinto molto grande di più di due ettari tutti insieme specie di animali di varie specie come dicevo non tutti gli animali hanno non solo la necessità ma neppure la voglia di interagire con le persone e è una loro libera scelta avvicinarsi o meno ci sono molti animali che scelgono di rapportarsi con le persone di venire a conoscere chi è venuto a casa loro perché a rifugio miletta gli animali non sono ospiti sono i padroni di casa e interagiscono con le persone in quel momento sono le persone che conosciuta la storia dell'animale saputo che pensate che ancora oggi molte persone arrivano e chiedono ma ogni quanto vengono munte le mucche e penso a spiegare anch'io mi mettevo all'inizio la prendevo in questo modo ridevo e un po' canzonavo quel tipo di reazione poi però mi sono messo nei loro panni in cui molte persone sono educate dalla pubblicità la loro formazione arriva dalla televisione e dalla pubblicità la pubblicità dei prodotti caseari non spiega come funziona un allevamento spiega la parte finale in cui c'è un prodotto che magari deriva dal latte o il latte che è buono da bere al punto di vista del gusto tutto il resto non viene spiegato quindi la mia prima reazione le prime volte era quella di ridere canzionarli quasi prenderli un po' in giro mi sono reso conto che sbagliavo totalmente perché queste persone erano in buona fede non sapevano che in tutti i mammiferi incluse le mucche da latte che questa parola questa talamucca fa pensare naturalmente a un'infiltà di persone questo non è un nostro cane anche se qua ce ne sono tantissimi fa pensare alle persone che le mucche producano latte sempre e quindi invece inizialmente sorridevo e spiegavo magari con troppa sacienza no non l'ho più fatto mi sono reso conto che era un grave errore e spiegavo invece come funziona l'allevamento perché la mucca produce latte è un mammifero quindi deve partorire eccetera eccetera prima di arrivare a visitare il rifugio non lo sapevano la speranza è che non parlando di veganismo che ripeto in televisione probabilmente è una parola che chi frequenta la televisione ha malinteso perché gli è stata presentata in un certo modo ma conosce le storie degli animali li può conoscere di persona si può rapportare con loro esca dal rifugio Miletta con una scintilla che lo possa far ragionare su quelli che sono i suoi comportamenti verso gli animali all'interno della propria vita indubbiamente a una buona parte delle persone questo non succede ma invece ci sono tante testimonianze di altre tante persone che sono state segnate da una visita al rifugio tra l'altro la cosa curiosa è che la maggior parte dei visitatori del rifugio Milette quando si potevano fare le visite ce ne erano davvero tanti perché lo spazio non è finito e dovevamo dobbiamo fare le visite con prenotazione quindi arrivate a un certo numero di prenotazioni dobbiamo chiudere si passa a prenotare per la visita successiva c'erano almeno sempre un centinaio di persone e lì stoppavamo le prenotazioni e ci sono visite dove c'erano visite dopo la settimana quindi in un anno venivano davvero tante persone a visitare il rifugio aspetta un attimo mi sono perso stavo parlando del numero di persone che vedevano il rifugio e che testimoniano che al rifugio hanno vissuto un un cambiamento ecco speriamo che poi queste persone una volta uscite parlano anche di questo cambiamento e di questa scintilla con i loro contatti ecco stavo parlando queste persone vengono a visitare il rifugio perché credono che sia una fattore didattica nonostante quando c'è ci sono gli eventi delle visit c'è scritto a caratteri cubitali non siamo una fattore didattica nella pagina di prenotazione c'è scritto non siamo una fattore didattica se riceve un email quando si prenota con tutte le informazioni per arrivare c'è scritto non siamo una fattore didattica ma probabilmente le persone non leggono non ascolta non scrivono e quindi vengono qua pensando di arrivare a una visitare una fattore didattica questo però inizialmente dava estremamente fastidio poi a un certo punto noi abbiamo anche iniziato invece a a sfruttarlo dal nostro punto di vista perché cosa deve fare un rifugio parlare secondo noi parlare già vegani e aspettarsi che vengano vegani a trovare gli animali oppure parlare a tutte le altre persone che sono la stragrande maggioranza che di rispetto per gli animali ancora sanno poco se non nulla ecco a un certo punto nonostante continuo ad esserci scritto dappertutto che non siamo una fattoria didattica ma le persone arrivano cercando di visitare una fattoria didattica parliamo a loro che di veganismo e di rispetto per gli animali conoscono molto poco quindi insomma alla fine lo prendiamo come un nostro vantaggio sì veramente è bello benissimo c'è un commento di Mauro che vorrei leggerlo giusto Francesco non fare barriere accogliere tutti mostrare esempi e regalare esperienze affettive la via migliore bisogna aiutare chi ha ricevuto fin da piccolo il paraocchi a toglierselo da solo senza azione di forzatura neppure verbale aiutare a riconoscere la luce e i colori da sempre sopraffatti dal buio bellissimo commento questo qui che volevo leggerlo molto bello Mauro infatti parlavamo di comunicazione ecco vorrei che non essere preinteso non è che la comunicazione del Rifugio Miletta è molto blanda e lascia le persone con il loro status quo no la visita al Rifugio Miletta dal nostro punto di vista in base alle esperienze e commenti che vediamo che ci sono negli eventi post visita fa riflettere speriamo l'obiettivo è questo far riflettere non lasciare le persone sperando che poi le persone ascoltino perché comunque c'è tutta una parte di persone che non non ascolta con attenzione quello che viene detto e va bene va bene comunque una parte delle persone che arriva e ascolta quello che viene detto si spera proprio che vada via con una scintilla un barlume di riflessione da far crescere dentro di sé e su cui ragionare con una comunicazione di questo tipo volevo leggervi anche un altro commento quello di Elena Cassandra ci saluta buonasera l'approccio con la gente necessariamente deve essere informativo e di sensibilizzazione io sono vegana da almeno 20 anni e non mi metto a ridere di chi è tra virgolette ignorante molto spesso la gente è ignorante perché non sa allora bisogna spiegare far conoscere informare far conoscere alla gente delle alternative di vita quotidiana insomma è un po' quello che dicevo io per fortuna oggi siamo abbiamo in mano questo potere quello dell'informazione anch'io sono diventata vegana più di 30 anni fa erano la fine degli anni 80 e non c'era internet non c'era tutta questa divulgazione che c'è oggi non c'era rispetto proprio degli animali verso gli animali non non era un non era un problema quello di rispettare gli animali quindi trovandosi in queste situazioni era brutto non potersi informare e oggi sono del parere che divulgare tutti questi temi di cui noi trattiamo il bene degli animali verso gli animali lo stop agli allevamenti intensivi lo stop al consumo di carne sia fondamentale da portare avanti con con fierezza e andiamo avanti con le domande per Francesco perché ne abbiamo veramente tante allora al rifugio Miletta ci sono asini mucche poni capre pecore maiali cinghiali cani e gatti abbiamo detto la libertà è protagonista della loro vita chi sono gli animali che abitano al rifugio Miletta gli animali che abitano al rifugio Miletta sono tantini e ognuno di loro ha una storia da raccontare però per questioni di tempo è complicato raccontarle tutte quindi magari vediamo se poi alla fine riusciamo vi posso raccontare la storia di Lino o la storia di Eva sicuramente sono tutti animali che erano schiavi questa è un'affermazione che durante le visite dico sempre e la dico prima di che le persone entrino perché una volta che le persone entrano al rifugio e si trovano circondate da daini mufloni cinghiali capre pecore che gli saltano addosso alla ricerca di un contatto è complicato è indubbiamente complicato mantenere l'attenzione però in una persona non vegana parlare di schiavitù quando lo schiavo è l'animale è li stabilizza le parole però sono molto importanti quindi gli spiego anche cosa vuol dire schiavo perché capita a me capita spesso di utilizzare delle parole ma poi di avere qualche difficoltà se mi si chiedesse va bene ma cosa vuol dire questa parola magari a volte avrei difficoltà a trovare una definizione quindi la definizione di schiavo la dico io la spiego io all'inizio della visita lo schiavo è secondo la convenzione di ginevra del 1926 in cui si tentava di interrompere la tratta degli schiavi dal continente africano verso l'Europa e verso le americhe c'è la definizione di schiavitù ed è un individuo su cui qualcuno esercita un diritto di proprietà in quella definizione non c'è scritto essere umano c'è proprio scritto individuo durante la visita al rifugio Miletta tutte le persone che vengono a conoscere gli animali si possono accorgere che sono individui cioè anche in un greggio di pecore non ce n'è una che abbia che sia un clone di un'altra possono avere caratteristiche fisiche comuni possono avere alcune alcuni tratti caratteriali comuni come ci può essere tra un gruppo di persone che convive e si trova bene tra di loro ma ognuna ha le proprie aspirazioni i propri desideri i propri sogni chi vive con un cane lo sa perfettamente che se ha convissuto con due cani diversi uno era molto diverso dall'altro anche se appartenevano alla stessa razza quindi avevano caratteristiche fisiche simili non lo sanno le persone con gli animali se ne rendono conto durante le visite ci sono quelli che gli animali come vi spiegavo prima che si avvicinano tranquillamente ai visitatori e quelli che invece vogliono starsene tranquilli e stanno lontani quindi in questo modo la parola schiavitù è molto più accettata perché cos'è un animale oggi se non uno schiavo ragionando sul fatto che qualcuno sempre comunque esercita il diritto di proprietà su un animale che sia l'allevatore di cani che li fa nascere carini pucciosi bellini per poi venderli che sia l'allevatore che ama tanto i suoi animali finché gli producono un reddito ma nel momento in cui un animale si ammala quell'animale non viene curato perché curarlo andrebbe a erodere il guadagno che l'allevatore avrebbe con la vendita di quella vita quindi gli animali che sono a rifugio Miletta che vivono a rifugio Miletta sono erano degli schiavi che sono tutti che sono tutti stati schiavi e spesso arrivano da quegli allevatori che dicono di amare i propri animali fino a che gli producono un reddito arrivano da quel piccolo allevatore dal contadino che c'è appena fuori dal paesello che tratta bene gli animali che non è un allevamento intensivo che ha un forte carbon footprint un impatto ambientale elevato per cui è malvagio perché inquina no arrivano erano schiavi di piccoli allevamenti in cui magari il pastore gli tirava uno o due l'allevatore gli tirava uno o due bastonato ogni tanto quando l'animale non andava dove doveva andare oppure se rifiutava di far succidere che però era tutto sommato qui tra virgolette trattato molto meglio che un allenamento intensivo oppure gli animali che vivono a rifugio miletta erano animali dei pastori qui a rifugio in questo dunque non so più quanti ovicaprini abbiamo perché all'ultimo conteggio che risale a settembre che è di quando li abbiamo vaccinati fatto una seconda dose di vaccino erano 103 ovicaprini ma nel frattempo ne sono entrati altri ho perso il conto dovrei controllare il registro la maggior parte di questi 103 ovicaprini sì ci sono stati alcuni ci sono alcuni animali sequestrati ma la maggior parte sono animali che sono poverini arrivano sono persi dai pastori questi pastori che erranti qui attorno nella provincia di Novara ci sono tante linee la pastorizia di questo tipo è molto comune questi pastori che poverini trattano benissimi gli animali che stanno sempre all'aria aperta che stanno mangiano brucano l'erba fresca tutto l'anno se un agnello nasce nel momento in cui o nei giorni prima in cui il pastore trasferisce il gregge da un campo a un altro quell'agnello non è in grado di seguire né la madre né il gregge quindi la madre è abbastonata e viene costretta a stare col gregge e l'agnello viene abbandonato sul posto le persone ci chiamano al telefono dicendoci nel campo che c'è vicino a casa mia c'era un gregge adesso c'ho un agnellino un ultimo caso mi sembra sia capitato due settimane fa con due capre questo per raccontarvi che non c'è un modo di allevare gli animali e quindi trarre profitto dalla loro vita che possa essere considerato in qualche modo etico perché se l'etica si limita all'essere umano e quindi ci accontentiamo dell'allevamento non intensivo e quindi con poche emissioni e quindi sostenibile diamo un valore molto limitato all'etica ricordandoci che invece ogni singolo animale è una vita e non c'è un modo etico per uccidere qualcuno a meno che non si tratti forse l'unica eccezione poi io ho sempre un'infinità di detrattori devo sempre precisare puntualizzare forse l'unica eccezione può essere l'eutanasia nel caso in cui per esempio questo è un diritto secondo me che agli animali è riconosciuto e alle persone no se c'è un animale che è estremamente sofferente che non può essere curato in nessun modo e che non può vivere una vita degna di essere vissuta e che è comunque destinato a morire tra le troci sofferenze in breve tempo ecco forse l'eutanasia è l'unico modo etico per un fine vita questo purtroppo alle persone non è ancora concesso almeno nel nostro paese allora imparare dagli animali a coabitare senza violenza vivendo liberi e felici tutti insieme una comunità quindi fondata sull'empatia questa sensazione è sicuramente sentita da chi veniva a far visita al vostro rifugio dico veniva perché con il covid le visite guidate sono sospese quanto è importante far conoscere questa realtà al pubblico e anche alle famiglie che possono portare i propri figli in un rifugio in un contesto reale come accennavamo prima dove gli animali sono finalmente in pace nel loro ambiente non scambiandolo comunque come una fattoria didattica o uno gioco e come si svolge una giornata all'aria aperta da voi una parte abbiamo già parlato delle visite ma secondo me secondo la mia personale opinione è molto importante che una famiglia porti i bimbi o anche gli adulti vengano a visitare un rifugio in età o in qualunque altro rifugio perché ci sono molte fattorie didattiche che la cui visita può essere molto simile a quella di un rifugio in cui le persone hanno la possibilità di interagire con una parte degli animali generalmente con quella parte in cui magari anche le stalle sono un po' più pulite in cui i box sono un po' più puliti la differenza qual è? che una volta finita la visita alla fattore didattica e una volta in cui non appena l'animale della fattore didattica ha raggiunto il peso per cui può essere macellato quell'animale muore e viene sostituito con un altro tutto bello pulito per fare in modo che attiri i visitatori successivi nei rifugi è importante spiegare la differenza tra fattore didattica in cui c'è sfruttamento degli animali e rifugi o santuari in cui invece questo non avviene per esempio il rifugio Miletta ma in tutti non avviene neppure lo sfruttamento degli animali per attrarre i visitatori prima di tutto perché le visite sono gratuite nessuno deve pagare un biglietto di ingresso per visitare un santuario secondo perché non è richiesto agli animali di fare i carini pucciosi con i visitatori talche volte magari noi abbiamo Ercole che si agita un po' e inizia a giocare in mezzo alle persone considerandole dei birilli con noi volontari che abbiamo dei goccioloni di sudore enormi per cercare di contenere di contenere Ercole che ormai io continuo a considerare un vitello perché l'ho visto appena arrivato minuscolo ma in realtà è un bue decisamente muscoloso e importante come si svolge una giornata non sono proprio giornate all'aria aperta sono delle visite guidate sono guidate perché a rifugio Miletta ci sono poche recinzioni ce ne sono alcune sono quelle che servono per tutelare la sicurezza di tutti ci sono anche dei cani che vivono a rifugio Miletta alcuni hanno una motivazione predatoria molto elevata per cui non potrebbero mai stare insieme per esempio a una capra o un agnello sarebbe un bagno di sangue non tanto figurato quindi ci sono delle recinzioni ma la maggior parte degli animali vive tutte insieme tra di loro quindi è impensabile lasciare che delle persone girino loro libere a casa degli animali perché gli animali potrebbero non gradire certi comportamenti perché non tutti sanno come approcciarsi a una mucca o a un cinghiale quindi la visita è guidata prima della visita al di fuori del rifugio spieghiamo chi siamo cosa facciamo ma soprattutto come bisogna comportarsi all'interno per fare in modo che all'interno non ci siano incidenti poi si entra tutti insieme e man mano che si incontrano gli animali raccontiamo le loro storie Ercole mi sembra azzeccato come come storia ce l'ha da presto raccontare è un nome onomatopeico allora Francesco qual è l'aiuto che chiedete a chi vuol sostenere il rifugio ci sono un'infinità di modi per aiutare il rifugio umiletta c'è proprio una scelta vastissima il primo di tutti è per chi abita vicino al rifugio aiutarci fisicamente venire a fare volontariato qui ci sono abbiamo un po' di pretese ecco mettiamola così sui volontari abbiamo un po' di pretese non vogliamo conoscere il loro percorso etico a che punto sono del loro viaggio ma sarebbe importante invece partire con il desiderio di venire a fare volontariato al rifugio con costanza anziché venire una volta sola per conoscere gli animali per venire una volta sola ci sono le visite sicuramente adesso con la primavera si potrà ripartire all'inizio dell'estate perché serve costanza perché come dicevo ci sono poche recinzioni ed è necessario imparare sia come chiuderle bene per evitare incidenti molto gravi sia come approcciarsi ad ogni singolo animale dove sono gli strumenti cosa deve essere fatto al mattino cosa deve essere fatto alla sera questo non può essere imparato in una singola giornata quindi per chi volesse aiutarci e abita quindi la zona perché noi non possiamo ospitare chiediamo di partire con il desiderio di farlo con continuità poi si viene una volta e si capisce che non è un tipo di volontariato fatto per sé non c'è nessunissimo problema sarebbe sbagliato venire invece solo per fare una carezza agli animali perché gli altri volontari che fanno da tutor alla persona che arriva investono del loro tempo che invece magari se questa persona non ha intenzione di continuare sarebbe investito meglio direttamente sugli animali di cui si prendono cura siamo circa ecco vi dico siamo circa una ventina di volontari che chi più con con un impegno di tipo diverso non tanto come motivazione ma per questioni di tempo perché tutti lavoriamo abbiamo una famiglia abbiamo gli amici quindi l'impegno minimo richiesto è mezza giornata a settimana mezza giornata a settimana c'è chi viene mezza giornata a settimana e pulisce i box in cui dormono gli animali chi raccoglie le cacche che ci sono in giro chi cambia tutte le acque degli abbeveratori ognuno ha un proprio ruolo e c'è chi invece viene due giornate a settimana chi viene tutti i weekend e si occupa delle riparazioni delle strutture che sono un costo abbastanza importante ma sono anche un impegno molto importante c'è chi viene per fare i soccorsi chi si ferma chi dà la disponibilità notturna per fare i soccorsi ai selvatici poi magari ne parliamo quindi siamo una ventina di volontari che danno disponibilità diverse un impegno diverso rispetto al tempo che si ha a disposizione infine anche noi come ho letto adesso il santuario Capra Libera Tutti di Massimo nel Lazio sta acquistando un nuovo terreno noi l'abbiamo acquistato a dicembre un terreno di circa due ettari che è confinante con quello di tre ettari su cui c'è già il rifugio l'abbiamo acquistato per diverse ragioni prima di tutte perché lo spazio che abbiamo per ospitare per dare una casa a nove animali è limitato quindi a un certo punto l'aslo stessa ci dice va bene adesso non può più entrare nessuno quindi come facciamo a continuare a salvare a dare casa a nove animali secondo perché con i selvatici abbiamo bisogno di strutture un po' diverse rispetto a quelle che abbiamo adesso al rifugio vivono 27 cinghiali che non verranno mai rilasciati ma che sono anche loro padroni di casa hanno bisogno di uno spazio più adeguato rispetto a quello che riusciamo a offrire adesso quindi per una serie di motivazioni il terreno l'abbiamo comprato purtroppo con un prestito in banca abbiamo fatto un prestito c'erano delle agevolazioni molto forti senza interesse eccetera abbiamo acquistato il terreno ma adesso dobbiamo recintarlo perché diventi usufruibile sfruttabile dagli animali purtroppo i costi della recinzione del primo box che dobbiamo costruire sono esorbitanti ma anziché chiedere ancora una volta di mettere mano al portafoglio di tutte le persone che ci seguono con ebilion che è un'app con cui si possono fare recensioni di piatti vegani ordinati nei ristoranti anche da sport e di prodotti vegani acquistati nei negozi questa app davvero non è una bufala anche io all'inizio pensavo che fosse una cosa così inventata per farti prendersi qualche click no ogni 10 recensioni inserite questa app dona 10 dollari di tasca sua non di tasca dell'utente a un partner che ha scelta dell'utente lo scorso anno nel 2020 grazie a questa app abbiamo costruito dei nuovi ricordi notturni del valore di 12.000 euro quindi piuttosto elevati solo grazie alle recensioni degli utenti quest'anno vorremmo battere il record assoluto perché la recensione i permessi i lavori per questo nuovo terreno costano 27.000 euro e quindi serviranno 32.000 recensioni abbiamo pubblicato proprio oggi la paginetta dobbiamo ancora divulgarla è un'anteprima con cui però speriamo di raccogliere la cifra necessaria perché questo terreno poi possa essere sfruttabile dagli animali si può donare 5 per 1000 all'associazione si può diventare sostenitore con una donazione ricorrente mensile che sceglie la persona che dona si può fare una donazione una tantum si può adottare a distanza si può aiutare in tantissimi modi vi do un'ulteriore anteprima a cui abbiamo stiamo lavorando proprio adesso si potrà anche diventare volontario sostenitore scusa volontario soccorritore per il recupero di animali selvatici nel territorio della provincia di Novara facendo parte di una rete a cui noi comunicheremo gli animali piccolini piccoli uccelli mammiferi piccoli come ghiri scoiattoli semplici da prendere per cui serve una formazione non tanto importante come quella invece per fare il soccorso di un animale investito su strada per cui le persone sul territorio della provincia che faranno parte di questa rete riceveranno un annuncio guarda che nel tuo comune c'è un pettirosso che ha sbattuto contro una vetrata questa persona lo può andare a prendere lo porta qui al rifugio alla nostra critica veterinaria e contribuisce a soccorrere e salvare effettivamente delle vite nel 2020 siamo riusciti a soccorrere mille dieci animali selvatici con questo sistema speriamo di riuscire a soccorrerne ancora di più per aiutare il rifugio Miletta e quindi aiutare gli animali perché il rifugio Miletta sì è un'associazione ma in realtà siamo tutti volontari che con un determinato con una determinata filosofia che è quella che si può leggere nel nostro statuto pubblicato sul sito aiutano tutti gli animali è proprio il caso di dire le recensioni con le recensioni bella questa frase è un bel motto bellissimo e quello che volevo chiedere naturalmente Antonella lo chiederà come siete organizzati per i selvatici Antonella chiedilo tu chiedilo tu eh no non abbiamo finito ancora sicuramente ci sarà anche dove un link dove poter eh donare un contributo economico per sostenere il rifugio Francesco poi parleremo del ok allora mettiamo condivido subito il il link e poi volevo leggere prima di andare avanti eh una testimonianza molto bella eh di Angela Guattelli dice io sono vegana ho portato la mia famiglia al rifugio ed è stato illuminante a me non ascoltavano ora invece si stanno tutti ricredendo marito e figli quattro adolescenti si percepisce molto il fatto che un animale sia considerato come un individuo meraviglioso siete bravissimi questo ci fa capire appunto di quanto sia eh eh emozionante eh andare in un rifugio e soprattutto le persone che scoprono l'empatia di cui parlavamo prima e avviene proprio la trasformazione penso che sia una delle cose più più magiche quando uno va in un rifugio e ha una visione diversa della vita bellissima questa questa testimonianza grazie sono commosso allora adesso parliamo appunto del centro di di recupero eh rifugio Miletta dal 2016 è diventato appunto anche centro di recupero per animali selvatici riconosciuto dalla provincia di Novara quindi il cittadino come dicevamo prima anche sentendo le anticipazioni le anteprime di Francesco in nome della responsabilità etica il cittadino può segnalare se infestivamente si ritrova un animale selvatico ferito o in difficoltà e chiamare direttamente o il 100 oppure il 112 avete lanciato Francesco anche insieme alla LAC una campagna informativa dove chiedete che la tutela della fauna selvaticica non sia affidata ai cacciatori ma persone competenti senza conflitto di interessi quali sono le soluzioni attuabili già da subito mi hai lanciato almeno 4-5 possibilità di aggancio cerco di andare velocissimo perché vedo che forse stiamo sporando un po' dai vostri tempi e che io sono molto logoroico scusate va bene così va bene così allora si rifugio miletta dal 2016 è il centro di recupero animali selvatici per la provincia di Novara se in provincia di Novara c'è un animale selvatico in difficoltà si chiama il 112 oppure direttamente il numero del rifugio e in base al tipo di difficoltà noi interveniamo cosa vuol dire che se c'è un animale mammifero investito o in difficoltà andiamo noi a recuperarlo se invece c'è un uccellino in difficoltà ci deve essere portato presso il centro perché questo prima di tutto perché siamo troppo pochi per riuscire a fare tutto perché un uccellino un pettirosso una cornacchia un qualunque animaletto piccolino che è in difficoltà non ci vuole nulla prenderlo metterlo dentro una scatola di cartone e portarlo qua se non la volontà delle persone che l'hanno ritrovato mentre sul soccorso di un mammifero investito servono delle competenze molto più specifiche per cui il soccorso non può essere effettuato ovviamente dalla persona che è lì e poi che ci porti l'animale perché rischia di una persona pur in buona fede ma senza le giuste competenze rischia di peggiorare il quadro clinico dell'animale l'iniziativa che vi dicevo di qui che abbiamo anticipato prima vorrebbe creare una rete di persone che possono andare a recuperare anche gli uccellini ricci gli scoiattoli da quelle persone che li hanno ritrovati e sono impossibilitati a portarli da noi perché non hanno l'automobile perché sono al lavoro perché purtroppo capita in quel momento non hanno voglia insieme a LAC abbiamo lanciato in realtà due campagne perché insieme a LAC perché da quando siamo centri da sempre ovviamente siamo tutti vegani l'associazione è vegana poi sui volontari non vi so dire uno a uno tantissimi sono vegani e quindi il rispetto per gli animali è la lotta per i diritti degli animali a 360 gradi allevamenti intrattenimento abbigliamento eccetera tra l'altro è curioso perché una volta che facciamo un post su un argomento qualcuno con il benaltrismo pronto sulla tastiera sì però c'è anche quell'altro problema facciamo un post sull'altro problema sì però c'è anche quel problema lì va bene ci vuole un'enorme pazienza da quando siamo centro di recupero per gli animali selvatici abbiamo deciso o forse ci è capitato e basta di parlare e realizzare campagne informative più specifiche per quanto riguarda gli animali selvatici perché da un certo punto di vista anche loro hanno pochissimi diritti e quei diritti dovrebbero essere in questo momento tutelati dal mondo che in realtà ha tutto l'interesse che si diverte a ucciderli che è il mondo venatorio per farvi capire quando c'è un capriolo investito una volpe investita a volte passa da noi tre mesi sei mesi dipende da se ha una frattura da quanto era brutta la frattura il trauma cranico da quanto ci mette a riprendersi sta con noi magari sei mesi in cui tutti i giorni questo animale viene alimentato viene curato gli vengono fatte le terapie che prescrive il veterinario con estrema delicatezza deve essere pulito il box perché gli animali selvatici molti non lo sanno sono delle creature particolarmente delicate la cui solo la presenza umana può causare uno stress tale da causare problemi addirittura possono morire perché impossibilitati a scappare dalla presenza umana sopraggiunge una condizione di stress tale da cui non riescono a uscire quindi la delicatezza e le competenze che vanno usate con questi animali sono eccezionali una volta che ci prendiamo cura di un animale per mesi che riusciamo a portarlo alla fine del del percorso di guarigione che è pronto per essere rilasciato viene rilasciato lo trova un cacciatore e lo uccide questa è una frustrazione che è molto difficile descrivere con parole adeguate a un contesto pubblico in cui ci sono magari persone di tutte le età che ascoltano e di tutte le regioni ecco mettiamola così quindi da un po' di tempo da quando siamo crass ci stiamo mobilitati un po' di più forse rispetto al resto per cercare di sensibilizzare le persone sui danni dell'attività venatoria alla fauna selvatica per questo abbiamo fatto due campagne insieme ai volontari di LAC Lega per l'abolizione della caccia una la prima era una petizione che voleva che con un decreto ministeriale il ministro dell'ambiente inibisse la caccia alla volpe intana la caccia alla volpe intana è una pratica orrenda in cui i cacciatori spesso durante il periodo riproduttivo la volpe è cacciabile durante il periodo della stagione venatoria e al di fuori della stagione venatoria tutto l'anno attraverso la caccia di selezione quindi durante la caccia di selezione nel periodo tra l'altro in cui le volpe si riproducono e hanno i cuccioli che è il periodo in cui stanno nelle tane che va da marzo aprile più o meno i cacciatori con i loro cani chiudono tutti i buchi delle tane fanno andare i loro cani sotto terra sbrannano la volpe la volpe muore o sbrannata oppure se si divertono e la chiappano e la tirano fuori dalla tana poi la mollano la fanno correre la fanno inseguire nuovamente dei cani finché non viene uccisa perché? boh perché sono a me purtroppo abbiamo queste parole qua sono dei sadici cioè mentre non so un fagiano per quanto possa essere orrendo sparare a un fagiano allevato e poi liberato perché ci sono pochi fagiani sono tra l'altro animali all'octoni non esistevano qua però con gli altri animali che non esistevano qua ci sono le campagne di eradicazione con il fagiano che all'octono ma piace il cacciatore invece nessuna eradicazione li allevano li liberano sono in grado di vivere in natura e poi gli sparano però almeno se lo mangiano mettiamola così cioè boh sono calorie ci sono tutte altre alternative rispetto alle calorie del fagiano per sprovvivere Antonella ma tantissime altre persone ne sono un esempio che 10, 20, 30 anni 40 anni senza mangiare animali e si sta benissimo sulla volpe la volpe non si mangia è proprio sadismo quella campagna ha raggiunto non mi ricordo 180 200.000 firme è finita in televisione ha un sacco di trasmissioni a Rai 3 su Italia 1 con tanto di interviste a guardie venatorie ha avuto un successo clamoroso dal punto di vista mediatico abbiamo chiesto al ministro dell'ambiente un incontro al ministro Costa perché c'era lui ministro dell'ambiente purtroppo la sua segreteria ha sempre fatto una barriera e non ha mai fatto arrivare effettivamente la petizione al ministro abbiamo delle risposte dalla sua segreteria che onestamente non rendono onore a quello che per l'ambiente quel ministro aveva fatto perché il ministro dell'ambiente perché un decreto ministeriale perché per fare una legge serve la maggioranza del Parlamento oltre che qualcuno la deve proporre anche se l'iniziativa popolare va proposta per raccogliere 50.000 femmine in un determinato periodo di tempo poi deve arrivare in Parlamento qualcuno la deve proporre e poi la metà più non del Parlamento la deve votare positivamente un decreto ministeriale non ha bisogno di passare dal Parlamento quindi abbiamo scelto quella strada siamo stati un po' delusi dalla segreteria del ministro Costa quella campagna non è finita sicuramente la porteremo avanti con il nuovo ministro la seconda campagna scusate leggo tra i commenti perché i cacciatori non tollerano che le volpe mangino altra selvaggina verissimo però la campagna non era stop alla caccia alla volpe o stop alla caccia era una cosa estremamente mirata perché selezionando un perimetro molto piccolo con un'azione che ha un seguito mediatico importante puoi forse sei fortunato e sei bravo riuscire ad ottenere un cambiamento quindi non era basta caccia in generale anche se poi se ne può parlare per ore ma era solo basta caccia alla volpe intana perché dovrebbe già essere legale perché prima di tutto c'è un combattimento tra animali che è vietato già vietato dalla legge il cane combatte con la volpe è vietato poi perché c'è un maltrattamento di animale la volpe che viene fatta mordere dal cane ed è già vietato dalla legge sembrava un obiettivo raggiungibile in un periodo medio breve e con la segreteria del ministro Costa non siamo riusciti ad arrivare da lui anche se poi abbiamo visto che in realtà ha preso in carico petizioni con un numero di firme estremamente minore rispetto a quello che avevamo ottenuto noi comunque continueremo la seconda campagna che forse ha avuto ancora per risonanza che abbiamo fatto con l'AC si chiama emergenza cinghiali ed è qui dove chiediamo che dove denunciamo un fortissimo conflitto di interesse e chiediamo che la soluzione non sia più in mano ai cacciatori perché con i cinghiali vi ho detto prima anticipato che al Refugio Miletta vivono 27 cinghiali che è un numero abbastanza importante e impegnativo perché vivono 27 cinghiali di Refugio Miletta perché come centro di recupero fa una selvatica ci impegniamo a soccorrere tutti i cinghiali della provincia di Novara in difficoltà ma poi non potevamo rilasciarli sul territorio perché c'è una legge che impedisce il rilascio dei cinghiali perché vorrebbe impedire l'allevamento abusivo di cinghiali e il rilascio sul territorio a scopo venatorio ma in realtà si credeva che impedisse anche ai centri di recupero poi una volta curato un cinghiale di rilasciarlo sul territorio questo ultimamente è stato dimostrato che non è così ad ogni modo se soccorriamo un cinghiale da cucciolo perché quel cinghiale è orfano sempre a causa dei cacciatori perché sparano al... questa è una cosa che ci è capitato molto spesso i cacciatori sparano alle madri che sono grosse sono delle prede che ritengono che si divertono a sparare gli animali più grossi i cinghiali i cuccioli o li lasciano sbranare dai cani oppure a volte non hanno il coraggio di ammazzarli e quindi vagano per il territorio un cucciolo allevato da noi se abitua alle persone non è più rilasciabile sul territorio questo è il motivo per cui ci sono 27 cinghiali che vivono qua ma noi vorremmo risolvere il problema a monte se voi cercate tra le notizie emergenze cinghiali trovate una quantità di articoli spropositata difficilmente raggiungono la stampa nazionale esclusivamente quando c'è un incidente che coinvolge l'essere umano mentre vengono pubblicati sulla stampa locale migliaia e migliaia di comunicati stampa ogni anno copia e incolla quindi c'è un giornalismo che non può più essere considerato giornalismo di comunicati di associazioni venatorie e associazioni di agricoltori che continuano ad utilizzare questo termine emergenza cinghiali siamo in emergenza su quel sito spieghiamo perché non è un'emergenza perché se c'è un problema di coabitazione con la fauna selvatica e questo è innegabile non lo neghiamo certo e questo problema è costante nel tempo non può essere considerato un'emergenza è un problema che va affrontato ci sarebbero dei modi per mitigare i conflitti di coabitazione con la fauna selvatica attuabili fin da subito ma quasi nessuno lo fa perché non lo si fa perché nei consigli regionali nella commissione agricoltura di camera senato addirittura alla commissione agricoltura europea le cariche i parlamentari i consiglieri regionali gli assessori sono cacciatori quindi se il problema di se questi personaggi preposti a mitigare il problema di coabitazione a risolverlo lo risolvessero chi potrebbero a chi potrebbero sparare i cacciatori quindi nonostante i cacciatori siano un numero molte volte ci viene chiesto sì ma sono una nicchia di persone sono 450.000 anzianotti che vanno in giro a sparare gli animali spesso si sparano tra loro questo è un ulteriore problema come fanno a decidere loro quello che succede perché negli anni hanno lavorato molto bene con un sistema lobbistico importante e i loro referenti sono quelli che propongono le leggi sono quelli che devono approvare le leggi non sto parlando a livello complottistico perché se voi cercate i nomi dei diputati e dei senatori che sono nella commissione agricoltura vedete che sono alla fiera delle armi vedete che lasciano interviste in cui dicono sì nella mia famiglia la caccia è una tradizione mio nonno mio padre mi portavano con loro eccetera 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 perché questo problema possa essere risolto ci deve essere prima di tutto un cambio di una risoluzione non del problema ma del conflitto di interessi cioè chi si occupa di fauna selvatica della tutela della fauna selvatica non può avere l'interesse di ucciderla e quindi le istituzioni devono cambiare ma devono cambiare anche dal punto di vista gli elettori devono essere un po' più consapevoli di chi vanno a votare ovvio che non c'è un partito uno che sia dichiaratamente contro la caccia però quando ci sono elezioni si possono esprimere anche delle preferenze bisogna stare molto attenti sui cinghiali potrei parlarvi per ore ore ma vi rimando al sito che abbiamo creato quella campagna che si chiama emergenzacinghiali.org in cui vengono analizzati tutti i fattori che creano conflitto e quali sono le soluzioni che potrebbero risolverli non uccidendo nessuno va benissimo Francesco sicuramente parleremo con te anche in altre dirette di questi di la fauna selvatica e volevo semplicemente concludere questa puntata chiedendoti molto brevemente quali sono i progetti futuri già c'hai appunto fatto prima l'anteprima del recinto avete qualche altra sì in realtà ne abbiamo un'infinità poi il problema è riuscire a portarli abbiamo come Alessandra aveva un sogno nel 2013 adesso dei sogni ne abbiamo molti di più però purtroppo non siamo abbastanza volontari per riuscire a concretare e a concretizzarli tutti in tempi brevi spesso qualcuno ci scrive ma non rispondete alle mail vi ho scritto una settimana fa chiedendovi di salvare questo animale o perché come si fa a fare quell'altra cosa purtroppo il tempo che possiamo dedicare all'associazione è limitato quindi anche i progetti vengono portati avanti tutti ma nelle tempistiche per cui si riesce a farlo un progetto molto importante due te le ho accennate abbiamo un nuovo terreno con un nuovo spazio più spazio per gli animali avremo a breve volontari che saranno molto più agili a girare per tutta la provincia perché partiranno da casa loro per il recupero dei piccoli animali selvatici abbiamo una recensione da fare uno dei problemi che abbiamo con il soccorso degli animali selvatici è che le persone che li ritrovano tentano di alimentarli cioè trovo un uccellino per terra che non vola e quindi sta male la prima cosa che faccio è dargli da mangiare no questo non andrebbe mai fatto prima di tutto perché se non sai riconoscere se è un insettivoro se è un rapace non 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 puoi sapere qual è il cibo più adatto a lui quindi gli danno da mangiare del cibo inadatto arrivano qua e muoiono non solo con gli uccellini ma anche con ricci con gli scoiattoli con le faine perché c'è questa cosa eppure se ci troviamo con una persona che sta male per la strada vediamo che sta male chiamiamo il 112 attendiamo l'arrivo dell'ambulanza e lasciamo che siano dei professionisti a farsi carico della salute di quella persona noi non siamo professionisti perché non lo facciamo per mestiere ma siamo professionali perché comunque però abbiamo le competenze per farlo è come se uno che trova una persona per la strada che sta male caccia un imbuto in gola e gli butta dentro la segatura quello è di aiuto? no questo problema è così ricorrente che tanti degli animali che arrivano qua muoiono per questa ragione e ci siamo resi conto che i nostri post su facebook riguardo gli animali selvatici che tutti terminano con cosa devi fare se trovi un uccellino cosa devi fare se trovi un riccio comunque non raggiungono un numero adeguato di persone dobbiamo uscire probabilmente dal nostro dal pubblico che c'è su facebook e cercare di sensibilizzare un tipo di persone che su facebook e su instagram non c'è quindi abbiamo fatto un volantino con il patrocino della provincia di Novara e dell'asla veterinaria di Novara un volantino pieghevole che spiega alle persone cosa fare se trovano un animale selvatico in difficoltà questo volantino a brevissimo sarà nella maggior parte delle cliniche degli ambulatori veterinari della provincia di Novara e questo è il primo step perché negli ambulatori veterinari perché tendenzialmente notiamo che le persone che soccorrono che si fermano a dire c'è un uccellino che sta male sono quelle che magari già convivono con un animale selvatico e che quindi hanno un po' più di sensibilità con un animale domestico scusate e che quindi hanno un po' più di sensibilità quindi quando portano il loro animale dal veterinario troveranno una locandina a tre che gli dice che è disponibile un volantino da prendere gratuitamente e da leggere questo a carico dell'associazione quindi i veterinari non dovranno spendere nulla dovranno semplicemente ospitare questi volantini successivamente andranno nei negozi per cibo di animali sempre per coinvolgere le persone che già convivono con un animale domestico infine questo volantino andrà anche nei comuni siccome adesso i comuni della provincia siccome nei comuni ultimamente ci si va poco per questioni di pandemia andrà una locandina con un QR code che si inquadra con il cellularino e farà scaricare sul proprio cellulare questo volantino successivamente una iniziativa molto importante che è già partita e per cui abbiamo già i primi casi ma che non abbiamo ancora comunicato ufficialmente anzi avevamo comunicato ma probabilmente è andata un po' in sordina è che in provincia di Novara i privati potranno adottare degli animali domestici quindi non selvatici ma non solo cani e gatti ma per esempio capre e pecore e voi dite vabbè ma anche il mio vicino magari in campagna c'ha la capretta la novità pazzesca è che prima non ne abbiamo parlato a Rifugio Miletta gli animali non hanno una marca auricolare perché siamo riusciti a ottenere il riconoscimento è che quegli animali non sono animali da reddito gli animali che vivono qui quindi non entreranno mai in nessun caso a far parte dell'industria alimentare quindi tutta la tracciabilità richiesta dall'industria alimentare per gli animali che vivono qui non è richiesta non hanno la marca auricolare quell'orecchino fastidiosissimo che li identifica come un prodotto no gli animali che sono qua non sono un prodotto sono degli individui non hanno quella marca auricolare ma hanno un microchip quindi abbiamo ottenuto la possibilità di far adottare non solo a distanza adesso già ovviamente gli animali che sono qua alcuni sono adottati a distanza gli animali che passano dal Rifugio Miletta e a cui verrà messo il microchip e non saranno più animali da reddito potranno essere adottati come animali domestici dai privati all'interno della provincia di Novara che ne faranno richiesta ovviamente con un percorso di selezione molto severo che è più o meno simile a quello che si fa per i cani cioè quando uno in una situazione dà un cane in adozione ci sono dei colloqui c'è un controllo di perfido a casa della persona bisogna formare la persona perché non necessariamente tutti sanno di quanto fieno ha bisogno una pecore qual è il cibo o l'integratore che le va dato quindi con un po' di formazione ci vorrà molta pazienza da parte di chi farà richiesta sul sito penso che la pagina per fare richiesta c'è già ci serve molta pazienza serve la consapevolezza che si verrà controllati al microscopio perché ci potrebbero essere anche dei malintenzionati però secondo me è una cosa molto importante perché non saranno più adottati come animali non saranno più detenuti come animali da reddito ma adottati come animali domestici le prime due capre sono state adottate due settimane fa abbiamo le foto abbiamo qualche video dobbiamo avere il tempo per divulgare questa notizia la stessa cosa attenzione questa è una bomba pazzesca qual è grande come dicono qua io non sono originario di queste zone è una mina la stessa cosa potrà essere fatta con i cinghiali come? sì se c'è un animale cinghiale che entra al rifugio miletta da cucciolo e quindi verrà microcippato e sarà in salute con entro determinate condizioni che non diciamo pubblicamente perché la questione potrebbe essere rischiosa per trovare malintenzionati un giorno potrà essere adottato da un privato e anche lui come noi potrà fare le capriole nel fango coccolandosi con un cinghiale va benissimo poi di idee e di sogni ce ne sono un'infinità ne hai tantissime si vede che siamo qua da un'ora e mezza esplosiva esplosiva io chiudo la la puntata di oggi molto interessante ringrazio Nino e Francesco per essere intervenuti ringrazio tutte le persone che sono state con noi ad ascoltarci e vi do appuntamento domenica prossima con storie di con un altro rifugio e vi saluto e vi abbraccio ciao Nino ciao Francesco buonasera a tutti grazie a Tornelenino e grazie a tutte le persone che ah no una precisazione una prossima diretta la faremo con gli abitanti cioè al posto tuo ci dovranno essere Ercole e gli altri abitanti del rifugio molto volentieri ciao benissimo ciao a tutti a domenica prossima ciao a tutti buona serata grazie a tutti a domenica prossima a domenica prossima Grazie a tutti.